che noi non tocchiamo chiaramente perché non siamo elettricisti e non vogliamo lasciarli al freddo qua c'hanno anche le chiavi della casetta l'interruttore generale della corrente vabbè caduto amen a a a a a a a a a terzo piano amici ma soprattutto amiche siamo al terzo piano sempre insieme ad ermes e a paolo rusconi che dobbiamo dirvi anche stavolta problema palazzi privati pubblici abbandonati lasciati così diventano di more per i senza tetto mettiamoci una mano nel cuore senza tetto non sempre un delinquente eccetera queste cose qui forse più delinquente che non gli da un alloggio dopo che li fa venire in italia o che lascia gli italiani in mezzo alla strada comunque proseguiamo perché ne abbiamo ancora un po da vedere guardate che bella panoramica li fagliano a vedere quella è l'autostrada aspetta ti levo un pezzo di tendina aspetta 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 Grazie a tutti Non voglio fare l'arrampicata su corda qui Chissà dov'è il piano del Presidente qua Comunque qui la Forte Antincendio ci dice che fino al 21 giugno del 2017 ci sono stati controlli Nel palazzo qui della Direct Line Assicurazioni di Cinisello Balsamo Quarto piano Sono qua Vieni vieni qua c'è un paio di ravi interessanti Questo 2018 addirittura Scusami Paolo qua la targhetta Invece dice 2018 quindi un anno in più Rispetto a quello che abbiamo visto nell'altra parte della struttura Ti volevo far vedere qui Questi cominciano ad essere i piani alti Quelli della Presidenza Lì c'è del cibo fresco C'è un sacchetto di KFC Yogurt Eccetera E poi cari amici che ci seguite Che seguite il nostro staff di City Report Nelle avventure più selvagge e pazze e perigose di Milano Avete visto tutti quanti Quei tubi tranciati Eccetera I ladri famosi del loro rosso Quindi del rame C'è olio Sale Biscotti Qua c'è yogurt Yogurt fa bene Questo sa? Buongelato Vabbè Qui che visuale abbiamo? Vediamo La tangenziale Il centro commerciale famoso Ecco vedete quel centro commerciale lì? Prossimamente Andiamo va Tiriamoci sull'ultimo Vi stiamo facendo vedere un sunto Perché poi il sopralluogo è lunghissimo Delle cose diciamo più particolari Che troviamo qui dentro In realtà C'errebbe tutto Tutto da mandare in onda Ma avrebbe fuori un filmone Che non finisce più Aspetta Vedi qua Guarda Questi vedi Sono quelli che barbarizzano Le strutture Che poi le rendono inagibili Guarda Hanno rubato tutto quello che era rubabile Guarda Guarda ste canaline qui Quarto Verso il quinto Nel frattempo vediamo già le impronte qua È notato Uno scheletro Questo non mi piace Portiamo via Grazie a tutti Ciao 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 a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Piena questa, eh? Riprendi bene. Piena. Guardate. Piena. Si prega di buttare i bicchieri dell'acqua. E siamo al quinto. Andiamo su di sei, dai. E siamo arrivati finalmente in cima. Come vedete, tanti graffiti, solita roba spaccata, dirubata. Vista molto bella. Questi sono i cartelloni pubblicitari, che adesso sono strapieni di scritte. Questo è il locale degli ascensori. Sì, sì, tranquillo. Direi che il palazzo l'abbiamo scalato. Fai un'ultima ripresa qui, poi ci rivediamo direttamente giù. Ciao. 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 Troviamo un bel vestito da Babbo Natale qua. Proseguiamo. Dopo il vestito da Babbo Natale, lì c'è anche la mano di Mickey Mouse. Non è finita qui, Paolo. Guarda nel cortile cosa troviamo. Guarda sotto. La vedi la testa di Topolino? C'è la testa di Topolino. Incredibile. Questo posto dove è? Un altro bivacchino. C'è anche la lampada gas. E qua c'è? Qua troviamo delle gomme coperte di macchine ad alte prestazioni, guardando la marca, guardando la misura, che è un 55, forse rifurtiva. C'è un camattino da bimbo. Insomma direi che questo posto qui non è in sicurezza per nulla eh. e qui lanciavano l'immondizia giù, si vede dei sacchi, le bottiglie. ma noi siamo sicuri, questa è una mummia di gatto morto, che questo posto si è sorvegliato. ma. ma. Forse d'estate ci deveva essere anche la piscina, oltre che l'asilo qui, guarda. c'è anche la mascherina da sub. E anche le pinne. E anche le pinne. E anche le pinne. questo non lo è. Ma la domanda vera è, qui è caduto un albero. Guardate che albero. Ma è possibile che abbiano, qualcuno sia venuto a mettere il nastro e non abbia invece messo in sicurezza il palazzo? Cioè, mi sembra una roba allucinante sta qua eh. Guardate come si è sradicato. il nastro è qui. Cioè, guarda qui che roba. Cioè, questo è un dettaglio eh, però guardate che roba. Avete mai visto un albero sradicato in questa maniera eh? Anch'io eh. E' una delle prime volte che le vedo. Più piccoli, ma grosso così mai. Tra l'altro, ridicola la cosa, perché qua vediamo l'albero. e la troviamo la scatola della pizza della Spontini. E' intorno nastrato. Quindi qualcuno qua è entrato, penso della forza pubblica, della polizia locale, perché non credo che se lo siano nastrati da soli. Mentre nastravano, non lo vedevano che c'era il cartone della pizza Spontini. Cioè, ma dimmi se anche questo è normale eh. Andiamo dai. Allora, cari amici. All'ultimo piano vi abbiamo fatto vedere un bombolone pieno. Questo è vuoto. Questo avvalora ancora di più la nostra idea che questo palazzo, c'è il riscaldamento, arriva anche dal gas. Abbiamo anche i materassini. e anche tutti i cassoni qui sono pieni di bibite. Sicuramente questa non è roba che consumavano quelli impiegati della Direct Line, quelli che lavoravano qui. Si. Eh. Il pannolino sporco ragazzi. Questo potrebbe essere che arriva dal reparto asilo Nursere però. Me lo auguro. Però qua, pannolini. Direzione uscita. Stiamo uscendo da Direct Line Cinisello Balsamo via dei... Gracchi. Buongiorno. 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 Cari amici, dal tetto di Cinisello, la Direct Line, in mezzo ai graffiti, insieme ad Hermes e a Paolo Rusconi vi salutiamo. Alla prossima settimana. Andiamo avanti così. City Report. City Report.